Ora, legare il Green Pass al posto di lavoro è una cosa vergognosa. Guardi, io sono veramente allibita e non me ne aspettavo tanto, perché siamo l'unico paese, ripeto, l'unico paese d'Europa, quindi forse al mondo, che ha esteso l'obbligo del Green Pass al lavoro. Noi siamo tra l'altro un paese, io non so se vi ricordate, non si potevano licenziare nemmeno gli addetti ai bagagli di Malpensa, presi con le telecamere che stavano rubando, perché il diritto al lavoro in Italia è sacro. Ricordo la storia di un barista che aveva la cassiera che aveva rubato, per non vederla più tutti i giorni, ha chiuso l'attività, perché per il giudice non era licenziabile. Ora, legare il Green Pass al posto di lavoro è una cosa vergognosa e i toni usati da Davide Faraone sono terribili, perché incitano, istigano alla divisione, all'odio tra italiani, alla discriminazione, loro fanno tanto gli europeisti, ma in Europa il Green Pass è nato proprio per aiutare, agevolare il turismo, il movimento, e vieta espressamente l'Unione Europea di discriminare con il Green Pass, tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha, tra vaccinati e non vaccinati. E un'ultima cosa, noi abbiamo il record, ne sono felice, di vaccinati in Italia, nessun paese d'Europa ha più vaccinati di noi, abbiamo superato perfino il Regno Unito. La Danimarca ne ha molti di meno, ha tolto le restrizioni, la Gran Bretagna ne ha pochi di meno, ha tolto le restrizioni, ma in Gran Bretagna vi do una notizia, danno due tamponi gratuiti a tutti, vaccinati e non vaccinati, perché in Gran Bretagna vogliono contenere il virus e non hanno idea di mettere il Green Pass, perché lì la libertà individuale è importante, lì non hanno nemmeno la carta d'identità, figuriamoci, se mettono il Green Pass, ma ripeto, i tamponi sono gratuiti due a settimana per qualunque cittadino britannico, che sia vaccinato o meno, perché è importante il tracciamento, è importante il contenimento, lì veramente vogliono fermare il virus, voi volete controllare gli italiani, state creando una guerra tra italiani e non c'era bisogno, perché abbiamo dei dati altissimi di vaccinazione.